Cari miei signori, prego, in più fuori menù oggi c'è burratina, c'è la burratina con affettato di capo collo di Martina Frankes, formatino di patate, poi ho il filetto di cavallino, se scelgo in bocca praticamente, ma fammi capire, di cavallino del paese di cavallino? Arrostito al fuoco normale, oppure lo posso fare arrostito e poi tagliato granado per pomodorini, poi ho le costate di maialino fatte al sugo, poi ho la fiorentina che fa intorno.